Acqua da tutelare e non sprecare. Il dossier di Lega Ambiente Acqua in Rete, presentato in occasione della giornata mondiale dell'acqua, racconta di una Italia e di un Abruzzo sprecone che getta via oltre un terzo dell'acqua che circola nella rete idrica e che ha un record negativo anche nell'utilizzo pro capite, oltre i 400 litri annui. Servono investimenti e bisogna farlo attraverso il recovery plan, dice Lega Ambiente, che chiede anche l'immediato il recepimento della nuova direttiva europea sull'acqua, che introduce nuovi elementi inquinanti da controllare e alza i limiti delle sostanze che ne determinano la contaminazione. Chiediamo che la nuova direttiva comunitaria sia recepita nei tempi rapidi entro il 2023, non con le deroghe in progress nabili che abbiamo da sempre, a cui siamo sempre soggetti. Al tempo stesso vogliamo chiedere che ci sia una visione integrata della gestione di questa risorsa attraverso un piano nazionale di tutela dell'acqua, che è un bene che viene utilizzato anche in modo troppo dispendioso, del resto l'Italia è il primo paese proprio per consumi. Al tempo stesso abbiamo regioni, tra cui l'Abruzzo, che vanno in deficit soprattutto durante l'estate e questo è un problema. Bonifiche e depurazione, i due capisaldi degli interventi da attuare per tutelare l'acqua in Abruzzo. Dunque intervento immediato su bussi, unito alla messa in sicurezza dell'acquifero del Gran Sasso, ma anche incremento della capacità depurativa per fiumi e laghi. Sicuramente dobbiamo fare in modo che anche dal basso ci siano nuovi stili vita che ci permettono di ottimizzare al massimo questa risorsa. Però bisogna intervenire anche sulla dispersione, che purtroppo per il 34% caratterizza ancora le nostre reti regionali e far sì che emergenze come quelle del Gran Sasso vengano migliorate perché non possiamo permetterci che ci sia un'acqua che sia dispersa ogni secondo. C'è poi tutto il capitolo legato alla depurazione, ad esempio si attende il depuratore di Pescara nuovo? Anche su questo bisogna accelerare, oltre un terzo del sistema non è ancora a norma, Pescara è un esempio, bisogna fare in modo che queste risorse anche messe in campo siano ottimizzate al meglio e utilizzarne altre che possono venire anche dal nuovo piano nazionale di ripresa e resilienza, che possono far sì che attraverso i giusti investimenti tutela la gestione complessiva di questo bene comune, che appunto l'acqua, sia possibile e vada a rendere più sostenibile la nostra stessa esistenza.